E' un robot quadrupede, la Boston Dynamics, che rappresenta un'eccellenza a livello mondiale, probabilmente il robot più avanzato disponibile in commercio oggi. Gli aeroporti Roma e Reply hanno creato una partnership per verificare l'applicabilità di questa tecnologia in un contesto concreto operativo. Per esempio all'interno dei terminal, per sorvegliare le aree dove sono presenti anche i passeggeri e individuare magari un bagaglio abbandonato. Un altro utilizzo, un pochino più hard, può essere invece quello in ambito manutentivo. Ci sono una serie di locali, magari meno adatti a essere frequentati periodicamente da personale operativo. In questo caso il robot potrebbe muoversi all'interno di gallerie dove sono presenti i cavidotti, impianti idraulici per esempio. Parliamo chiaramente di una sperimentazione al momento, quindi non stiamo sostituendo nessun servizio di sorveglianza reale, ma potremmo immaginare un futuro dove i robot si affiancano ai nostri operatori e prendere il loro lavoro ancora più sicuro ed efficace.